E' tornato in un nuovo video, diamo la camera un po' più sistemata Penso che ando a peccatiri, penso che i miei video video penso abbastanza bene Allora, siamo qui per vedere la squadra di team of the season, team della stagione Allora, possiamo vedere un balverde molto buono, un barbs, alaba, mambissaka, ilic, cittagliafico, bailin, dobbene mucchiele, zenischi, nukuku, areola, eduart, golson e ken Poi ci sta chiesa, carta speciale da fare e altre due carte che sarebbero il tuku e una, no il tuku correa Un parente, ti chiamo, correa, più un'altra carta da fare SPC Però non lo faremo nel caso di trovare queste carte, sarebbero abbastanza buone Però io, come sapete, penso che si è capito in qualsiasi altro video Puntiamo alla serie A della stagione, squadra di settimana è inutile che la vediamo tanto Si sa Ok, adesso andiamo a aprire i nostri pacchetti Abbiamo 16 pacchetti, tra cui, volevo aspettare un altro poco Perché io lo consiglio a mangiare i pacchetti Abbiamo oro premium, oro maxi Abbiamo premium maxi, giocatori da 50.000, pacchetto 30.000, un poco di fa E poi abbiamo questo qua, 10 giocatori, 83 più Questo qua, sono indeciso, se aprirlo o non aprirlo Se aprirlo per adesso o quando sarà, in quel momento, molto spiegato e saranno tutti i toti Però, no, adesso andiamo col primo Perché vorrei i giocatori, perché se no non riesco a farmi chiese e completare la mia squadra In questa fase siamo registrati sabato, stiamo giocando anche la UL Uh, lavagna, buono, al primo pacchetto, buono Stiamo registrando, stiamo facendo anche la UL E ci sto cercando di mettere tutto me stesso per riuscire a fare buon risultato A meno prendermi o meno un toti garantito Perché come avete visto nell'aggiornamento hanno garantito i toti da Oro 2 Fino a Elite 1 e Top 100 Un toti garantito della massima serie Cioè Spagna, Serie A, Inghilterra, Francia e Germania I Top 5 campionati Nel caso sotto, al di sotto di Oro 2 Oro 3 Ascendere argento o bronzo Ci sarà Oro 3, massima probabilità Non si sa se io mentre parlo apriamo Anche se nel caso dobbiamo cosa ci fermiamo Da Oro 3 a scendere fino a Oro 1 A Argento 3 a 1, se non sbaglio Dovebbe stare la possibilità Non è con 100% possibile trovare un toti Un toti è possibile Pardon È possibile trovarlo Ma no, forse un big Dei Top 5 campionati Poi da Argento 2 fino a bronzo Il massimo sarebbe poi Massimo 88 i toti Nel caso saranno a scendere ancora E le possibilità vanno a diminuire sempre di più Per momento una lavagna in due pacchetti 85 buono pianici Vediamo Ok niente, io nel caso skipiamo quella che non mi servono E andiamo avanti direttamente con le carte più Perché? Vi ripeto Sto aprendo adesso Che non volevo aprire Che me lo devo conservare direttamente Da quando usciranno i toti Veramente questa volta di tutti i campionati Perché mi si è per chiesa Voglio trovarmi chiesa Voglio provare a chiesa con me Se non ho un giocatore non lo posso fare Ok per momento sono una lavagna Pianici 85 Ok, mo dobbiamo vedere perché Teniamo un po' i pacchetti Andiamo con l'ultimo romanzi E poi teniamo i pacchetti abbastanza ciotti Andiamo World Cup Dai ti prego Blu, blu È blu, è blu, è blu È blu, è blu È toti, toti Zienischi, no Era polacco È polacco Comunque abbiamo trovato il primo toti Prima squadra della stagione Hellick Difensore centrale ottimo Penso che sia della Championship Inglese 2 Ma toti era il trequartista Era Zienischi Aveva puntato tutto su lui Io conto tutto su di lui Su Zienischi Primo toti trovato Segnale Un toti trovato Ne troveremo Ne troveremo altre Non abbiamo qua Sono convinto Uuh 75 tanna Minchia Non posso vedere quanto costa Perché sapete Che è Bannato Trollarsi i miei 75, 80 Dammi un meno 80 Ok Vediamoci No Minchia Ok Primo toti trovato 86 pure Ottimo direi Ok Segnate Un toti trovato Certo Mi sta bene pure Ok Andiamo con Adesso questi Due maxini giocatori E poi vediamo Quale dobbiamo aprire Dai Back to back Back to back Back to back Back to back No Neanche lavagna Giustamente Dopo un toti Qualcosa deve dare Ok Ernaz Mi sta bene Perché mi devi dare Giocatori abbastanza Alti di euro Infatti Potete vedere Sono tutti giocatori Che non ho Perché ho finito Tutti i giocatori Facendo le sfide Più mettono sfide Più perdo giocatori Ok Niente Neanche lavagna Va bene Però Mi dai un toti Un piani Non mi dai più nulla In 16 5 pacchetti No Ho persi più di 5 Ho aperti Perché ne avevo 16 Meno Quanti ne abbiamo adesso O facciamo 10 7 Ne abbiamo aperti Mi dai solo due giocatori Tra uno toti Niente Il paragono non è troppo bello Però i pacchetti Non erano buoni Ok Non fa niente Vai Non fa niente Non è una magna Neanche Ok Adesso Da ora in poi Dovemmo tenere Pacchetti abbastanza Un di buono Abbastanza corposi Abbastanza buoni Possiamo dire Abbiamo il 50.000 50.000 35.000 Mega Mega Poi abbiamo Zincorari 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 E basta 3 zincorari Andiamo con i zincorari Poi ci teniamo Il mega I 50.000 E poi Non so se aprire quello 12 83 Più Se aspettare O tenere Walkout Ti prego Blu 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 E' il secondo E' il secondo Ti prego Polacco 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 Ilicic 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 Non so se Potremmo trovare Qualcun altro sotto Sarebbe bellissimo Trovarli i due sotto Ilicic Complimenti Sei un biciù Ti prego Un altro sotto Un altro sotto Un altro sotto Un altro sotto Ok no Però ci dà solo ilicic Oh neppure uno scambiabile Bellissimo Tanto lo stesso Non lo potevo vendere Però Ottimo Ilicic Mamma mia Che statistiche 4-4 85 Di croce Poi ci mettiamo qualcosa 95 di tiro 93 di passaggio 92 di drible E' un bella motore Ti serve Equilibrio fa pena Fisico Vabbè Non mi serve tanto Ma che bellissimo Bellissimo Sei sei un babbago Ma Cisci Non ho di me Ok Secondo Totti trovato Segnate Secondo Secondo Ma dai Che sta carburando Dai che sta carburando Mi devi dare solo quel polacco Adesso Mi devi dare solo quel polacco Dai 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 Back to back Back to back Guarda Non è back to back Neanche lavando Vabbè Stiamo carburando Secondo Totti Trovate uno Dei migliori Possiamo dire Cicci A parte la buba Il verde Compagnia bella Però Sono molto contento Che mi ha dato Vabbè Ok andiamo con l'ultimo Zincorari Poi abbiamo cinque pacchetti Uno più bello dell'altro Anche se il singolo è stato Molto bello Andiamo Non è workout Ok Anche lavagne Skippiamo Perché è inutile Che vi faccio vedere I lavagne Inutile Faccio vedere I lavagne Corpose Bene Sostanziose Però Minchia Mi servono Curi 80 Minchia Uh Freda Non insinima Però Minchia Se non mi dai Una lavagna 80 83 84 Minchia Come le faccio Le sfide Non posso Viene Ok Allora Io direi di andare Un mega Un 50.000 Un mega I bello Mettono le mani davanti agli occhi Non si parla Un bella grafica Non è workout Però è bella grafica Non è lavagna Neanche Ci da un bel 80 70 70 80 Non è bello Dei bello Dammi Non bello Che era bello Annacci Che non lo posso Vedere Non bello Dei bello Quattrini Erano Bei quattrini Ok Andiamo Tutti di sfida Sopra Che io Potrebbero Servire Vi faccio Vedere Che serviranno A fare Gli 81 Più Poi Ve lo farò Stavere E se ho 50.000 Dai Se il workout Non lo guarda Lo schippo Senza sapere Lo schippiamo Se il workout Non è il workout Alamagna A meno Maratana If Di segno A chi ci sta If Ah Chi è Il difensore centrale Lo volevo notare Nei premi Ve lo svelo adesso Nei premi che ho avuto Nella UL passata Che non ho registrato Perché sapevo Che dovevo conservare I miei pacchetti Abbiamo trovato Erxen E Sigurdsson 88 86 Io le direi Sono dei premi Ottimi Stupendi Nel caso dopo Vi faccio dire Vola vola Ok abbiamo Uh bello questo Bello Uh Mertens Hierleno Sono bello questo Mertens Facciamo Vediamo Se possiamo scambiare Così mettiamo Il mio sopra E me lo conservo No neanche il mio Che famo Che il mio Non lo vorrei vendere Non gioco da un botto Con 140 Non è male Ma non è male Ma non è male Però Un 85 Dovemmo Andare a fare Una sfida Proviamo a fare Un attimo Una sfida Così mi salva Mi piaceva un botto Per bene Mertens Ok abbiamo Altri 4 pacchetti Ancora Andiamoci a aprire Ripartiamo da qua Con Misti Rari Ok mettiamo Mertensi squadra Ok mi sta bene Mi apposto Dai andiamo Con Misti Rari Mo' mi servono I 83 Perché se no Non posso fare più La sfida Ok andiamo Con Misti Rari Walkout Ti prego Blu 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 E' il terzo E' il terzo Ti prego Polacco 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 Porto Chi si Non è buono Ok Championship Del botto Non dovrebbe essere Ok Mi sta bene Riccardo Santos Ok Mi sta bene Mi sta bene Il terzo Va bene A vero Ilicic Santos E un altro Polacco Il mech Sempre Nelle championship Ottimo direi Per me E' ottimo Ottimo Tre Volcano Tre Ottimissimo Andiamo con gli ultimi due Abbiamo detto Mega 150.000 Andiamo con il mega Dai Mi sembra un po' L'acoccio Un po' L'acoccio Bella La fia Volcano Ti prego No E' la magna Non è bianca Per caso Non è bianca Ok Eriché Mi sta bene Mi sta bene Perché Quando esce Sembra gialla Però alla fine Quando si va a svaporare La luce Diventa bianca E ciò mi confondo A volte Però Erichy In 88 Mi sta bene Se mi danno qualcun altro Sotto 83 84 Mi serve Ancora più Comodo Ok Solo Mi è andato Va bene Non fa niente Altri soldi Andiamo a prendere A guadagnare Questi scartiamo Tutto Non mi interessa Ok L'ultimo pacchetto Abbiamo col 50.000 Questa volta Se la magna Veramente Lo schippiamo di corsa Senza guardarlo Due secondi Già tengo la mano pronta Ok Non è la Burk out Però E la magna Ok Vediamo l'ultimo 83 84 Ci da Ok Ci da Prima trisio 84 Ok L'ho scartato Per la sfida E me lo sono ripreso Di nuovo Ottimo Direi Così posso andare pure A vedere se riesco A farmi chiesa Per l'ultima sfida Ok Romagnoli Ottimo Magna Ottimo 82 Che già ce l'abbiamo Signore Ok E' il momento bello Abbiamo 10 Ci vado di 83 Allora Dopo aver trovato 3 totti Tra cui I ricic 91 Io direi di aprirlo Però Facciamo che Non andiamo ad aprire Andiamo a vedere Non posso farmi Andiamo a scoprirlo Mano a mano Un giocatore alla volta Ok Metteremo Joystick Davanti Andiamo a vedere Un giocatore alla volta Ok Dove apriamo Ci copriamo E mano a mano Cercherò di Andare a vedere Un giocatore alla volta Sperando di aver trovato Almeno il walkout Il giocatore blu Da poter portare In modo aperto Penso Arriviamo fino alla fine Me ne accorgo Se siamo fino alla fine Spero che non mi ha dato Libertà Dovresti Perché se no muoio Ok Ok Penso che è uscito il giocatore Spero che sia solo blu Questo Ok Scrippiamo Ok Adesso andiamo a vedere Il primo giocatore di qua Partendo da Destra mia Fino ad arrivare a sinistra Ok Ok Non abbiamo doppioni Allora La prima carta Paul Lopez 83 Ok Saliamo Saliamo Stracosha 83 Aragunza 83 Aito Ehi Cis Frantaga Mirad 5.1 Non è così solo Aito 83 Sirgo 84 Rashford 85 Stiamo salendo Ne manco ancora Penso 5 Prossimo Ziage 85 Tia così 85 Ne mancano 2 De Gea 86 È l'ultimo Vediamo Riusciamo a leggere Statistiche Ok Non è blu Dovebbe essere Centrofambi di Stata Cante Di Mario 87 Bruttissimo pacco È un Forse Un 10 80 Giocatore 83 Più brutto Che abbiamo visto Ci ha dato 1 2 3 4 5 Portieri Che me ne faccio Manco il cavolo Di 5 portieri Però Tutto sommato È stato un pacco Alla grande Abbiamo trovato 3 toti Lascia che 2 Sono stati della Championship Però abbiamo trovato Anche Ilicic E ora ci andiamo a favore Chiesa Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto A me Un botto Mi invito A seguirmi ancora A iscrivervi al canale A lasciare like Tutti i video Che sto facendo Perché io ci metto Molta passione Anche se Forse non riuscirà A farvela vedere Questa passione Però ci metto Un botto di tempo E che ci vediamo Al prossimo video Sempre dedicato ai toti Non so quando C'era Forse molto probabile Giovedì Con la preottura Di Paco Veni Dei premi E che dire Ci sentiamo Al prossimo Ciao a tutti